Allora, benvenuti ragazzi, qui stiamo rifacendo per la prima volta... Stiamo rifacendo per la prima volta, già parti male. E appunto, per far intendere... Sì, un paio di baciate. Allora, se per caso qualcuno non ha già visto questa missione, bisogna cucinare e vendertelo in pochi. È molto facile, ci han detto. Sì, sì, mi sono il più facile ancora prima di giunilleria. No, negozio di diamante. Porco tu. Questa qua mi sa che fate negozio di diamante. Ma questa qua mi sa che muore male. Vabbè, dai, pinefrina per tutti. Andiamo tutti in fondo con i borsoni, tutti, tutti. Sì, 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 bravissimo, arrivo anch'io. Eh, ma se poi... Eh, questi però... Comunque bisogna lasciare, secondo me, lasciare perdere la parte centrale. Ah, aspetta, aspetta, stavolta la teleferica è qua. Insieme dobbiamo stare, raga. È qua la teleferica, guarda. È in centro. È peggio. Qui c'è. Siamo cercando scompartimenti e poi ci riuniamo subito. Ah, di 5 degri. Allora, Pietro, andiamo in fondo. Proprio in fondo, in fondo. Eccoli. Stai già, sono arrivati prima i nemici che... Eh, c'ho già un clocher addosso io. Cioè, il primo nemico è un clocher. Ho preso il borsone io. Vai, vai, vai. Oh, teleferica. Sto scappando, sto scappando. Oh, cazzo, mi sa il gente di bastano. Bella, bella, bella. Dai, ma è porro. Sì? Amen. No, non ha detto niente. Ok, noi... Abbiamo preso tutto, eh. Abbiamo preso tutto. Cioè, io è già la terza volta che vado giù, eh. No, no, no. Come è già la terza? La seconda. Cioè, la seconda volta. No, sono morto anch'io. Ma dai. In mezz'ora corro il ritardo. Pietro? Dove sei? Eh, vabbè. Ma da dove cazzo mi sta prendendo sto taser di merda? Eh, vabbè. Ah, io sono giù. Pietro, c'è la unica esperanza. Eh, eh. Albe? Eh, non ce la faccio prendere più. Anzi, sì. Vado io, da vero. Se ti alzassi, Everett, magari... Cioè, c'hai tre... Tre... Tre bulldozer a coprirti. Ok. Il mpc è qua da dietro, a me. No! No, sono gringo. Perché che mi ha ucciso? Eh, stavo cercando di distruggere quei bastardi di dozer, sai. Ce ne sono tre. Un titan dozer, uno nero, uno grigio. Beh, devo pensare, pensare. Non credo che non ho posizioni di merda, però lo devo curare. Stai, ancora in piedi quello lì, eh. Ti do questa... Grazie. Sono grigio. Eh, no, no. Cazzo dio. Non mi ha messato a quel coppino, ma... Dozer nero, in piedi, vive e vesito, io sono in terra grigio. Eh, grazie. Trezzi, è l'ora di muoversi, dai miei temici. Non possiamo permetterci di stare in mezzo, non... Mettimi un medikit qua. Io sono grigio. L'ho già messo, l'ho già messo là in fondo. Eh, no, lì, secondo non ci arrivo. Mi curo anch'io perché sono andato già giù. No, 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 teito, dove è scusa? No, 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 dov'è, dov'è? Ma che faccio? Ma teito, un teito mi sta prendendo, non so dov'è. Va bene. Dai, anche il cecchino. Un'altra clocker. Eh, sì, il clocker che non mi fa... Qualcuno sa dove sono? Più o meno. Niente, raga. Taitan Dozer dietro. Mi aiuta. Grazie, grazie, grazie. Sono giù. Comunque via da qua, di bene. No, non si va di qua. Sì, vabbè. Acido cloridrico, allora. Questo che cos'è? Oh, porca. E' muoviatico. Io ci ho passato e muoio. No, comunque era un po' improvviso. Cioè. Il coglione. Porca troia, coglione. Preso. Preso, 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 preso. Cioè, io ci rimuoio perché mi prendo coppini, se vedi tu. Ok. Allora, acido cloridrico, eh? Allora. Il muriatico ce l'abbiamo tutti. Acido cloridrico, sei sicuro? No, free. Sì, silenzio. Ho sempre cucinato io, benissimo. Sì, a tentoni, però, sempre cucinato. A tentoni ad occhi chiusi, soprattutto. Dai, sembra che essersi calmata la situazione. Prendiamo tutti gli ingredienti e andiamo su. Vai, vai, vai. Lancio l'ultima. Canestro. Ovviamente il crocker non lo facciamo, eh? No, ho fatto stimato. Decisamente no. Moriatico, acido muriatico. Dove si passa? Ah, talavacca. Acido muriatico. Ma cazzo è lontana. La teleferica. Umar da quanti c'è n'è qua? Ah, grazie alberto che mi hai lasciato qui. Con quale le rosse, dai, ragazzi, abbiamo fatto il tuo segno. Eh sì, sono qua sotto. È caduto. No, è caduto. No, ho preso il tuo locker. Certo. 20 secondi. Eh, Pietro. Non ho taserle intorno a te di tutto. Eh, ci provo. Ragazzi, veloci. Ma che cazzo è che si spara? 12, 10. No. 9, 8, 7, 6, 5. Ah, non vedo niente, mi hanno puntato a fumogena qua. Che pensa fresco? Eh, alber, sono giù. Ancora. Eh, vedi un po' tu, mi fanno continuamente. Questa non è la mappata grimace. Eh dai, tirati. Niente, vengoli, guarda, tanto è nute, ci ho provato cinque volte. Shottato. Ecco, c'è anche il clocker qua. Eh, naturalmente che mi becca. Eh, ragazzi, siamo divisi. Guarda, non lo ammazzare. No, non devo ammazzarlo. Ragazzi, siete da soli. Io e Pietro siamo qua. Venti la teleferica. Sotto una prevenza. Eh, non c'è verso di tirarmi su. Niente, guarda. Dove ha il teleferico? È qui davanti. Sì, proprio, vado io. Mancucci, ho vinto a zercarmi. Ma ha shottato, ma ha shottato, Pietro. Pietro, 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 Pietro. Pietro, Pietro. Preso, 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 preso. Bello. Ho finito i polpi, Pietro. Eh. Perché ti ha fatto una monota, Pietro, figa. Io non l'ho lanciata. L'ho lanciata io. Ah. Ottimo. No. Albie, mi hanno shottato, non so da dove, però, mi hanno shottato. Trovai il cazzo di tesere a cui stavo sparando. Aiuto. Mi trovai delle ammo. No, ho il medikit. No, son grigio. No, Albie, io non so chi mi shotta, veramente. Boh. Son grigio. Son grigio e non so chi mi shotta. Non mi ha detto io, se non vengono su loro... Ok, son morto. Eh, prendilo tu, Albie, prendilo tu. Io non posso scorgere. Tanto qua, guarda, è inutile. Qua, quando vieni su, ti ammazza. Ok, sono morto anch'io, ma almeno sono qua su. Ok. No, non c'è, è inevitabile, guarda. Eh, veloce, finissima, io sto muorendo. Ok, bene. Muriatico. Ok, compriamo questa zona perché è un'altra cosa da fare qua. Io metto le ammo qua. Sì, pur da ciò che è un'altra cosa. Muriatico, raga. Vado io, vado io, vado io. Eh, muori, il capitano. Bella, raga, buttate tutte le borse dentro le cazzo di me. Oh, sporgetevi bene quando sparate, perché sennò non partono i colpi, eh. Buttate dentro la soda, raga. Dai, la soda, soda, soda. Vaffanculo così, la lancia, figa. Boom. Lancia giù tutto. Tutti insieme adesso, eh. Vado a prendere un po' di ammo qua, naturalmente mi sparano, perché... Un attimo che mi ricuro io. Nescono a beccarmi comunque, riascono a beccarmi. Ah, faccio dei ticari tutti insieme, eh. Eh, no, comunque qualcuno deve stare a sottotitoli. Ah, bene, sono da solo. Dozer che arriva. No, ci sono io, eh. Dozer, dozer, dozer. Se c'è il dozer. Via, 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 alber. Morto. Ah, chi è? Eh, lo sapevo io, lo sapevo. Ragazzi, veloci, veloci, veloci. C'è solo dietro il vetro, ma va. Dobbiamo andare laggiù, Frizz. Vado io, vado io, vado io, vado io. Pietro, ti salvo io, ma devi salvare. Eh, ho capito. Sì, ma io qua... Ma a me qua mi fanno il culo. Sei riuscito a consegnare la cazza di borsa? Chiamo l'elicottero. Ecco, quanti secondi? Dieci. Puttana, se ti prendo cosa mi devi fare? Uh, uh. Forza con le borse, ragazzi. Eh, sì, c'è come se il cavo lì sopra. E' un bulldazzer nero lì sopra. Dai, muori. Si, dieci colpi, non muore. Cioè, una bazzucata a dieci fucilate di Mosconi. No, 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 non muore, non muore. O me o te, vaffanculo. O me o te. Ecco, morte. Dai, che presa. No, non è morto. No, sono morto io, sono morto io, sono morto io. Oddio. Niente, sono a terra io. Eh. Nel fuoco. Cioè, è ancora in piedi dentro il fuoco. Ma guarda, si sta anche rialzando. M'han distrutto. Cazzo, frizz. Anche a me sono grigio. C'è quel bulldazzer là. Io sono fritto. 22 secondi, 20. No, 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 no. Io sono dentro del... Allora, arrivo da te perché gli sto cagando a te. Non gli fanno un cazzo le... Aspetta. Nemmeno... Eh, aspetta. Eh, niente, metto le ambo, raga. Abbiamo l'uscita a sinistra. Aspetta, aspetta. C'è l'RPG, ma non voglio usarlo contro questo. Questo che cazzo fa sto shif? Ma muori! Oh, è in fiamme sto shif. Poglione. Raga, allora, bello. Allora, butta giù tutto quello che è lì. Poi mi riparo dietro il pianifico, raga. Il problema è che c'è quel capitano di merda che è in vita. No, non riesco, non riesco. Sì, l'ho fatto, raga, l'ho fatto! L'ho fatto! L'ho fatto! No. Io lo vedo lì in bittico. Comunque, come... No, no, da me è entrato, raga. Da me no, è fuori. Come è fuori? E poi, c'è che porto, come ha tirato lo shif? Raga, ammazzate lo shif, ragazzi. Da me è dentro, raga. Da me è dentro, ma non ho fatto la shif. Eh, perché non è dentro. Adesso? No, dai! Non lo vedo proprio, figurati. Raga, come siete messi? Vabbè. Cazzo. Cioè, io l'ho messo dentro, eh. No, mi fido, però... No, eh, sì, però... Dove sei, Ev? Eh, no, non so. Allora, raga, adesso con uno scatto pelpato sulla destra prendiamo tutti la teleferica, eh. Per primo, Ev, vai. No, non posso. No, vado io. Mi fanno, mi fanno. Eh, là c'è quel cazzo di borsone dentro, da qualcuno. Esatto, non c'è via il borsone. Aspetta, mi curo e provo a farlo di nuovo. Tanto è l'ultimo. Raga, ma se chiamassi tanto l'escape, no, eh. Niente, vabbè. Vai, sali su. Vai, ti urlo. No, sì, però salgo su morto, ragazzi. Dovete... Curatevi. Curati, Pietro, ok. Mi sono curato. 27, 26, 25, 24, 23, 22. Arrivo su morto. No, 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 no. Su, cos'hai fatto, cos'hai fatto? State là su, in france, miglioratemi. Via, vai, via, su, su, su. Ma non abbiamo ancora chiamato il flare. Regami. Non abbiamo ancora chiamato il flare. Ev, cosa ho fatto? Eh, per forza, a me mi hanno... Mi hanno amazzato. C'è, venga, ho fatto il guru dell'ispirazione, ragazzi. Per cazzo di... Sono grigio, sono grigio, Ev. Ti prego, tirami su, tirami su. Sì, ma tu non sai cosa stava... Sola su... Vabbè, là. Cosa stava succedendo? Oh, 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 oh. Ma che è lì? Oh, 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 oh. Mi risposto. Vai, vai. Sola fuga. No, dai. Dai, eh. Dai, 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 dai. Dai, dai. Sì. Sì. Eh. Madonna, regà. Mamma mia. Ti sono caduto 9 volte. Ma io 12, no, 15. Io una volta. Madonna, regà. Da qua qui. No, no, non ho 7. Il trick alla fine me l'ha lasciato. Cioè, io ero morto, ma sono sceso dall'alto. Sei sceso dall'alto. Dall'alto dei cieli. Esatto. Te sei morto dall'alto, sono vita dall'alto. Sì, ma regà, io quel borsone l'ho messo dentro. Porca miseria. Eh, infatti adesso lo carico come video. Pensa, Anna, che questa partita non la farà mai. Ah, è vero. Non è computer. La farà, Anna, però, signor, dai. Sì, perché lei è una sfiga, certo? Sempre uno dei più opportuni di capito la roba, eh. Ah, infatti. Io invece penso che questa ciment non lo pubblicherò perché ero morto malamente lassù in cima. Ah, beh, guarda. E' già tanto che sei riusciti a farla, figa.